Chiuso viadotto per lavori, come annunciato questa mattina, sono iniziati i lavori stradali dell'ANAS Gruppo Ferrovie Italiane che con apposita ordinanza hanno chiuso al traffico il viadotto di scavalco della corsia in direzione SS18 Variante Agropoli alla rotatore di raccordo dello svincolo di Battipaglia. Lavori da ultimare entro il 5 dicembre. Subito le prime code con disagi per gli automobilisti che hanno seguito i percorsi alternativi per raggiungere la città. Ogni giorno il tratto sarà chiuso dalle 7.30 alle 16.30. Ultimati questi lavori inizieranno altri quelli sulla corsia in direzione A2 sul viadotto di scavalco alla rotatore dello svincolo di Battipaglia a partire dalla 6 al 21 dicembre nella fascia orale delle 7.30 alle 16.30, esclusi giorni festivi e prefestivi.